buongiorno e benvenuti su occhio allo scatto allora sei pronta? si ma da cosa sei travestita? vincifessa unicorno come mai questa scelta? perchè a me piacciono gli unicorni ah ok oggi facciamo questo shooting con la nuova attrezzatura una sony 7r2 montato un 24-70 f4 e sopra ho deciso di utilizzare un flash godox tt 685s è arrivato il tuo momento vieni ho messo la bambina in controluce in modo che la luce colpisce i capelli e dà luminosità dal momento che siamo in controluce ho deciso di utilizzare il flash però soltanto come riempimento ho trovato un bel posticino che può servirci anche da cornice queste piante così che creano un arco l'importante è tenere il volto all'ombra e non al sole diretto l'abbiamo 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 Oh oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh oh La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iscrivetevi al canale e al prossimo shooting. Ciao!